Ciao e bentornati sul canale, oggi un altro video che è una tipologia di video che mi piaceva tantissimo girare anni fa e quindi ho deciso di riproporvela, la mia make up bag quindi tutto quello che durante il mese corrente ho passato utilizzo io lascio tutto in un cestino, anche se comunque poi tutti gli altri trucchi che ho ce li ho portata di mano se dovessi servirmi qualcosa in particolare però cerco di mettere a cicli, mensili o ogni due mesi tutto in un cestino comunque in una pochette, insomma in un posto unico in modo da utilizzare tutto quello che ho voi sapete, se non lo sapete ve lo dico io, che io ho da un bel po' di mesi ormai direi quasi un annetto sto cercando di comprare molto 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 meno make up perché ho tantissimi prodotti, ma tanti sinceramente tutti gli acquisti che facevo nell'ultimo periodo erano più preda a oddio è uscita questa cosa, la voglio no, ok lo faccio ancora, però molto più dilazionato nel tempo e in maniera molto più mirata ok, è inutile che compro l'ennesima palette, tanto io non utilizzo le palette occhi è inutile che compro l'ennesimo rossetto quando alla fine io poi sono statica e metto sempre le stesse cose ci sto riuscendo e questo mi dà modo anche di girare tutti i prodotti che ho e di finirli che è una cosa meravigliosa quindi vi faccio vedere tutto quello che c'è in questo mese io l'ho chiamato marzo, però è anche febbraio anche perché marzo non è neanche ancora finito e tutto quello che ho su, lo indosso sul mio viso non ve l'ho registrato non vi ho registrato appunto il tutorial di come faccio questo trucco perché è basilare ma se vi piace scrivetemelo che provvederò allora, iniziamo subito pesco, primer quando sento la necessità di mettere il primer quando magari arrivo che ho proprio la necessità di mettere qualcosa di più idratante sulla pelle utilizzo l'Hungover di Too Faced questo è un primer che avevo usato già anni fa e mi era piaciuto lo compro sempre in mini taglia da 20 ml da Sephora perché è più compatto, è più piccolino riesco a infilarlo quando preparo il beauty da viaggio lo finisco e non lo spreco cioè riesco ad utilizzarlo tutto senza che magari il prodotto scada e mi trovo benissimo, è un primer idratante poi fondotinta, non fondotinta che sto usando di più anche se sul fondotinta cerco magari a seconda dell'esigenza di quel giorno di pescare dal mio cassettino il fondotinta più adatto però la maggior parte dei giorni anche in questi giorni che siamo a casa quindi io mi trucco perché registro i video o perché, non lo so, inganno il tempo però voglio una coprenza leggera non voglio niente di stravolgente sto usando, ma questo ormai lo conoscete il Lancome Skin Feels Good che cos'è questo prodotto bellissimo pecc in tubo e poppetta è un perfezionatore di tinta idratante dall'aspetto naturale è arricchito con acido ialuronico, glicerina vegetale, estratto di moringa SPF 23 allora loro lo chiamano come un perfezionatore dell'incarnato in realtà, secondo me, si può posizionare tra è più coprente di una crema colorata ha una texture più liquida rispetto a una BB cream e al pari di un fondotinta leggero la coprenza, comunque mantenendo un aspetto molto naturale la coprenza è una coprenza da leggera a media media, se ci aiutiamo con un correttore però è una coprenza leggera va ad uniformare tutto il viso una volta che lui ha uniformato tutto il viso non riesce a fare più niente perché comunque non è un fondotinta full coverage e a me piace tantissimo non me lo sento non me lo sento, riesco a portarlo tutto il giorno ovvio non arrivo alla sera in condizioni perfette ma va bene se scelgo un prodotto così so che non sto ottenendo le performance di un fondotinta da medio alta coprenza mi va bene così e mi piace molto ah la mia colorazione è la 025 ci sono tre colorazioni questa e quella in mezzo io ho preso la beige perché quando lo comprai mi sembra primavera quindi andando incontro alla bella stagione o comunque prendendo un po' di colorita ho preso un mezzo tono di più ma in realtà lo porto tutto l'anno il 25 per me va bene è un più giallo ma si fonde bene correttore correttore che sto utilizzando e voglio finire come vedete tutti i prodotti che avrò in questo cestino sono tutti i prodotti che voglio finire è un correttore di Lancome anche qui Lancome è andato completamente via tutto da quanto insomma l'ho messo di qua e di là a tanto tempo ed è l'Effa Cerno Long Tenue un correttore in tubetto ne basta la quantità di un di un chicco di sale grosso quella è la quantità poi io lo massaggio fra i colpastrelli lo lascio un attimo asciugare proprio qualche secondo da quelli che l'ho preso nella zona del contorno occhi un correttore a lunghissima tenuta non fa pieghe non secca il contorno occhi buono molto molto buono e non c'è più però la colorazione che ho io è la 2 al 98% è la 2 poi ho un altro correttore però è un correttore diverso è una tipologia di correttore differente perché è un correttore a penna questo è l'Eclaminute Pinceur Perfecteur di Clarenne nella colorazione 0-2 io ne ho vari ho avuto modo di provarne tanti di questi correttori così a penna e vi posso dire che tutti cercano un po' di rifarsi al Touche Clare di Yves Saint Laurent che a me personalmente non piace perché è un illuminante ma non ha quella coprenza che voglio io questo è il più coprente fra i più coprenti che ho provato quindi sì è un pennello illuminante quindi un correttore luminoso però comunque riuscite se non avete particolari occhiai e borse e niente proprio perfette beate voi riuscite anche solo con questo ad avere una coprenza ottimale cipria sto finendo con mia immensa gioia perché è completamente scavata la cipria di Nabla la close up compatta nella versione colorazione sì nella versione nel colore light questa è una cipria che mi piace mi è piaciuta da subito è una cipria minimizzatrice di pori matt ma non troppo secca mi piace e quindi la utilizzo con piacere e su quel fondato sul sullo questa ok sullo skin feels good quindi questa combo è perfetta tra l'altro è una cipria anche che ha un prezzo molto valido e con tutte le volte che l'ho trasportata portata in giro non si è mai rotta quindi contouring contouring ammettere che io utilizzo solo un colore questo quindi secondo me Diorla dovrebbe fare così questi due luminanti mai toccati ogni tanto puccio col pennello soprattutto in estate magari quando sono un pochino più abbronzata quindi prendo un po' di più di colore puccio questo qui che è il colore scuro però se no ne sa lì giace immobile e io utilizzo solo ed esclusivamente questo sopra il sopra il contouring questo lo sto facendo recentemente quindi proprio da metà febbraio in poi l'ho reinserita perché fa parte degli step che io chiamo primaverili e che faccio solo in primavera in visione dell'estate ho reinserito la mia terra la bronze goddess di Dior questa è la numero 4 Deep una maxi terra gigante infinita non finirà mai perfetta da quando l'ho presa ad oggi e sono tanto tempo e mi piace perché vado semplicemente un po' a scaldare tutto il viso a modi sole cioè la metto nei punti in cui generalmente mi bacia il sole d'estate quindi mi fa prendere un po' più di colore ed è bellissima una delle mie terra preferite illuminante uso una palette sempre Dior ed è la Dior backstage glow palette quindi la sorellina della palette da contouring in versione palette illuminante io utilizzo questo colore che è il peach anche questi due no perché hanno un effetto strobe quindi sono un effetto strobe glitterato no non amo i glitterati io amo comunque l'illuminante perlato comunque satinato e uso anche questo a modi ombretto quindi questi due li utilizzo blush non ci crederete non ci crederete ma ho smesso di usare il blush di mac il lovejoy perché questo mi capita ogni anno ogni anno ho una mesata in cui voglio il rosa quindi voglio un blush rosato mi sento primaverile e ho ripescato l'unico blush rosa che ho cioè ne ho tanti di blush ce ne fosse uno rosa come dico io quindi me lo dovrò comprare e vabbè nel frattempo ho ripescato adesso non me lo posso comprare però nel frattempo ho ripescato un insane quindi di de balm quindi de balm blush insane io non so se lo producano ancora comunque vi lascio tutto giù nell'info box nomi e varie cose questo si chiama hound's tooth tutto ed è quello che ho sulle guance non è proprio rosato 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 come lo vorrei io perché è un malva è un colore un pochino più scuro però ci sta bene con la matita labbra che porto quindi e poi è l'unico che ho e parliamo della matita labbra perché ce l'ho sempre qui perché per me è indispensabile a seconda poi del rossetto che decido di indossare che tengo in borsa comunque questa per me è la matita labbra perfetta e pillow talk di Charlotte Tilbury non ve la devo presentare è quella che indosso anche oggi quindi è sempre lei parliamo di sopracciglia allora io ho ribattuto il tatuaggio un paio di mesi fa mi sa poi quindi quando ogni volta che lo ribatto annualmente non non devo disegnare fare chissà cosa andare a disegnare pezzi dove magari il tatuaggio sta perdendo colore e quindi cosa succede che cerco di stare sempre molto attenta quando applico il fondotinta o la cipria non andare sulle sopracciglia e non ingrigirle ma siccome succede e se dovesse succedere io ho questo che è il brow gel di MAC il brow set è praticamente un gel per le sopracciglia semplicissimo ne ho tanti ne ho provati anche tanti di brow gel ma questo è quello che serve di più a me in questo caso perché va a rilasciarmi più colore quindi va a colorarmi le parti schiarite dal fondotinta ed è il colore bold brunette passiamo agli occhi allora il trucco che oggi il trucco che oggi è facilissimo prendete la vostra terra e fate una sfumatura nella palpebra nella piega della vostra palpebra lo portate anche un po' sotto quindi sfumate anche la rimacigliare inferiore e poi applicate questo questo è un paint pot di MAC che si chiama indian wood un colore mamma è bellissimo anche visto da qua un bronzo oro scuro con tantissimi riflessi bellissimo che io ho riscoperto perché vi ricordate se avete visto il video di Charlotte Tilbury che avevo comprato questo il color chameleon in color chameleon sono questi matitoni ombretti bellissimi durata pazzesca colori tutti belli e avevo comprato amber ace solo che cosa mi è successo con questo prodotto ho un gravissimo problema non riesco a temperarlo tutti i temperini che ho tutti quelli che hanno la parte grande non me lo temperano o comunque sento che se forzo un po' lo rompo e quindi non lo posso usare quindi non lo posso utilizzare però mettendo a posto tutti i miei ombretti in crema sistemando tutto io mi sono accorta che questi due sono dupe questo è un pochino più scuro ma mezzo tono ma sono dei prodotti che vanno sfumati sulla palpebra e vi assicuro che una volta sfumata sfumato il colore non si nota la differenza quindi vi do anche questa dritta amber ace dupe di Indianwood si è lui il dupe di questo perché questo è uscito prima molto molto prima poi come ombretto nel video dell'altro giorno quello dei prodotti finiti avevo usato questa palettina qui che è la palette di Charlotte Tilbury nella colorazione Pillow Talk mi piace io penso che queste palette siano veramente fatte bene la polvere è facilissima da utilizzare anche se non siete esperte non c'è fall out la il grado di pigmentazione è perfetto potete strutturare modulare qualsiasi tipo di trucco con quattro colori tutti i colori sono belli le fanno con quattro varianti di ombretti questa è la Pillow Talk quindi quella sui toni rosati però ce ne sono tantissime altre hanno un prezzo alto elevato però io la uso talmente tanto che quei soldi spesi per questa palette li ho ammortizzati e questa qui ce l'avevo nel video dei prodotti finiti ho fatto un mix comunque prevalentemente avevo usato questa palette tengo sempre una matita marrone scuro questa nello specifico è Barbarella Brown di Charlotte Tilbury una rock and roll sono le matite occhi che fa mi piace molto scrivente anche all'interno dell'occhio si sfuma e poi resta fissa lì non si muove è talmente scura che è quasi un nero ma non è un nero io preferisco il marrone al nero come matita occhi soprattutto se è un marrone scuro scuro e quindi lei c'è sempre per finire ah no ho avuto il periodo le settimane eyeliner ve l'avevo fatto vedere su instagram e avevo utilizzato due eyeliner che tengo però nel nel bicchiere dei pennelli perché li tengo a testa in giù ma ve li faccio comunque vedere adesso li prendo ecco il bicchiere dei pennelli ah non vi faccio vedere nessun pennello in questo video perché li devo lavare forse li lavo oggi o forse domani chissà e poi vi faccio vedere tutti i pennelli che uso di più perché comunque molti che sono qui alla fine neanche li uso voglio proprio sistemare anche tutta la zona dei pennelli e farvi vedere i pennelli che uso di più dove li ho comprati anche perché ne ho li ho da tanto tempo e sono ancora perfetti quindi vale la pena parlarvene gli eyeliner che uso sono due l'epic ink liner di nyx che ha un bel pennello con le setole ho paura di ok nero super nero molto liquido facilissimo anche se siete alle prime armi e il liner plume di lancome nella colorazione 01 che invece ha un pennello in feltro adesso vi metterò dei close up comunque lo vedete meglio un pennello in feltro meno nero perché comunque il feltro rispetto alle setole quindi al pennello rilascia meno meno colore però più preciso quindi io prima di solito traccio la linea con questo sistemo tutto e poi vado sopra con l'epic ink liner siamo arrivati ai mascare quindi abbiamo finito perché non c'è più niente e ne ho tre allora come vi dicevo nel video dei prodotti finiti il ciglia sensazionale perché è una coperta di linus e c'è sempre a prescindere dai mascare che utilizzo poi nel periodo che finisco questo lo tengo sempre perché mi mi piace mi fa delle ciglia in due secondi come dico io e quindi quando non ho voglia di fare esperimenti e poi in questo momento ne ho due il mitico mac in aspettate in extreme dimension lash 3d black che è un mascara che avevo usato già anni fa e mi era piaciuto ce l'ho ripreso e è un mascara che mi piace anche qui spazzola come dico io quindi molto pulita effetto è quello che ho su oggi e super nero dura bene tutto il giorno si strucca si strucca facilmente quindi un mascara che mi piace e poi nello scorso decluttering mi ero accorta di avere questo mascara ancora da aprire ed è un mascara di Elena Rubinstein si chiama Lash Queen nella versione waterproof pur essendo una versione waterproof vi assicuro che si strucca molto molto bene e mascara ottimo tutti i mascara di Elena Rubinstein che ho provato sono fantastici li ho provati nella versione classica nella versione waterproof marroni neri come li mettete sono fantastici proprio qualche giorno fa mentre mi applicavo questo mascara facendo questa riflessione che voglio condividere di quanto oggi siamo in un'epoca storica in cui vanno tanto se un'azienda non riesce ad essere al passo con i tempi a livello proprio di lavoro sui social quindi di campagne social pubblicità e non riesce ad arrivare a un pubblico così perde tantissimo quando invece anni fa un annetto fa o un paio di un anno e mezzo fa avevano fatto questo hype altissimo queste campagne super un viaggio stellare per la proposta di un mascara che rasenta il livello decente e tutti a comprarci quel mascara quando poi invece ci sono dei mascara ottimi che nessuno si ricorda che esistano solo perché non hanno un media manager dietro che li spinge e quindi io ve li consiglio mascara di Elena Rubic perché è un prodotto best seller del brand vi consiglio veramente di andarli a vedere e se li guardate pensatemi salutatemi col pensiero il mio preferito sono tutti belli tutti ma il mio preferito in assoluto è quello con il velluto quindi ogni tanto ricordiamoci anche di aziende che sono ottime non hanno assolutamente niente da invidiare alle aziende che sono arrivate da poco da noi e che restano li buone e non deludono mai anche per oggi abbiamo finito spero di avervi fatto compagnia anche oggi ci vediamo nei prossimi giorni muah